Parliamo adesso di strategie combinate con indicatori ed oscillatori. Intanto la combinazione di più indicatori rende più stabile la tecnica, in quanto ci dà una conferma del segnale, quindi noi abbiamo detto che abbiamo un motore che individua sostanzialmente la strategia che vogliamo andare a scegliere, quindi un motore di tipo trend following, reversal o incontro trend, in fase laterale. Quindi abbiamo un motore che lavora in una certa direzionalità e all'interno di un certo contesto. Quindi nel momento in cui noi abbiamo identificato quello che è il nostro motore e quello che è il trigger della nostra strategia, la combinazione di più indicatori può essere una conferma di quelli che sono i nostri segnali e la nostra strategia operativa. Evita inoltre la combinazione di più indicatori di prendere una posizione sbagliata perché possono essere utilizzati come filtri per evitare di fare un ingresso a mercato e quindi utilizzarli come segnali o meno di conferma della nostra trade come filtri operativi. È importante avere sempre comunque, quando facciamo e impostiamo delle strategie combinate, una visione di base del movimento del titolo, in modo tale da poter saper scegliere poi quali sono le combinazioni più efficienti di indicatori da poter associare tra loro. È importante avere sempre il prezzo, un pattern o un indicatore che fornisca il segnale principale di ingresso. Come abbiamo detto, il nostro trigger. E infine un indicatore o un oscillatore che vada a confermare il segnale principale di ingresso. Quindi abbiamo il nostro motore, il nostro trigger e dei segnali di filtri operativi di conferma. Quando si usano più indicatori è necessario quindi saper scegliere le combinazioni giuste. Non utilizzate mai degli indicatori che forniscono le stesse risultanze, altrimenti andrete a confermare un'evidenza con se stessa. Abbiamo detto in precedenza che ci sono degli indicatori che forniscono le stesse informazioni. Quindi scegliete degli indicatori che vi diano dei segnali alternativi, delle conferme alternative del vostro segnale, altrimenti non farete altro che ripetervi. Ad un indicatore aggiungete un oscillatore eventualmente per evidenziare i movimenti di swing o le possibili inversioni. Se state lavorando in trend e state utilizzando un indicatore, abbinate magari un oscillatore che per evidenziare per esempio i ritracciamenti o le prese di beneficio. In fase laterale gli oscillatori sono più utili. Non andate a utilizzare magari degli indicatori in fase laterale perché potrebbero generare confusione. Se siete in una fase di banda di oscillazione laterale, gli indicatori non sono efficienti. Quindi se voi individuate il vostro contesto di mercato, saprete anche quando utilizzare più gli indicatori o gli oscillatori. E potrete utilizzare le strategie che avete nel vostro paniere delle strategie operative, quelle più adatte alla situazione e al contesto di mercato. Quindi mi raccomando, abbiate sempre una view generale dell'andamento del vostro indice, in modo tale da sapere poi quale strategia in un determinato momento di mercato è più adatta per la vostra ingresso e per le vostre entry o exit strategy. Grazie a tutti.